No, secondo i miei calcoli fate schifo No raga scherzi a parte c'è un problema di recitazione di fondo qui Cioè non solo recitazione ma proprio editing Tutto, manca tutto raga, manca la voglia di fare il video L'impegno per fare il video, ho gli occhiali storti Manca la bravura, vabbè ma quella non è importante no? Il problema è che dovete metterci l'impegno raga Chissà oggi cosa c'è di bello su Youtube tendenze Allora, vediamo un po' come avere la febbre Maria io esco Ma ho sbagliato il video Siete pronti ragazzi? No Non ho sentito bene Oh ma sei sordo? Vai da Amplifon Ma hai rovinato l'infanzia? Perché non hai continuato la sigla? Adesso faremo appunto un esperimento Ma come un esperimento Non dobbiamo avere la febbre Questo fa gli esperimenti a caso Conosco un metodo che si fa col dentifricio Secondo me questo è un futuro Amplifon Io me ne vado già via perché Ma la vera domanda di questo video è perché fai video Lo spalmato in bagno Allora poi prendete il dentifricio Allora Io il dentifricio l'ho preso Adesso Lo dovrete mettere sulle labbra E' meglio che prima forse lo fai te Per avere la febbre Che è molto Molto funzionante L'ho usato tante volte Allora l'ho spalmato qua sulle labbra Come se fosse Boh non so cosa Eh? Come se fosse Boh non so cosa Eh? 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 Oh 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 Hai detto spalmarlo Questo se lo sniffa Dove? 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 Ma dai non puoi fare così Sembra una mucca che ha la rabbia E prendere appunto Trattenere il respiro Adesso raga Preparatevi per una performance Pupiu Cosa stai facendo lì? Oh questo qua mi fa chiamare il 118 118 Le mie sensazioni sono Innanzitutto mi viene tutto freddo Oh anch'io Ho incominciato ad avere freddo Mondale Sto congelando Oh zio Chiudi sta finestra C'è meno 10 fuori No no ma Ne ho beccato un altro Anche questo fa il tutorial Di come diventare un Super Saiyan Oh 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 Dovreste prendere un cuscino Sì e poi con il cuscino te lo tiro in testa Ok ho preso un cuscino Preso un cuscino e prendere il suo caso O questo cuscino il mio è più piccolo cioè questo sta spiegando che bisogna mettersi con il cuscino pieno di ghiaccio per tutta la notte per poi farsi venire la febbre e mandare anche all'ospedale qualcuno no, 118, adesso intervieni eh ho 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 anch'io i brividi, anch'io ce li ho brividi, brividi, brividi no scherzo non ce li ho ma dimenticavo raggiungiamo i mille like se volete anche voi una nuova parodia buono